ecco il link al mio canale twitch e alla mia pagina instagram per seguire gli aggiornamenti piccola comunicazione di servizio come ho detto nelle passate settimane nei vari video di injustice e ve lo dirò anche in un prossimo video di tetris purtroppo la serie di batman arkham non la posso portare per piccoli problemi legati a varie cose del copyright su twitch molte scene della modalità storia vengono nutate perché appunto non c'è la possibilità di far sentire quella determinata trazza o musica quindi non preoccupatevi non ci sarà batman arkham ma ci sarà un'altra serie che avevo già intenzione di portare dopo quella di batman però la porterò subito da domani dopo questo ultimo video con la serie di smash o questo ultimo video che vedrete ve lo dico subito oggi o se dovete ancora arrivare a questa giornata prima no il giorno di natale quindi questa comunicazione la farò sentire anche altri giorni ma oggi il giorno di natale sarà l'ultimo video di smash e da domani inizierà la storia di injustice gods among us come promesso trainer di wifit mischia aerobica se non mi sbaglio e c'è maschio donna ah posso cambiare di vestito prenderemo giallo la trainer di wifit che se non mi sbaglio c'è la mossa del sole c'è la mossa dello yoga c'è la mossa della palla a volo che tipo lancia una pallina una roba del genere partiamo a 2,2 ma già me ne sto pentendo perché ho segato tipo il tizio del pikmin contro wario ma gioco in casa perché wario ce l'ha perché wario ce l'ha in su col trainer vabbè il saluto al solo carichi una sfera di energia premio di nuovo pulsante per lanciarla colpo di testa colpisci un pallone di testa premio di nuovo pulsante per scegli il momento giusto super cerchi ti alzi in aria colpendo gli avversari coi cerchi bene respirazione con il giusto tempismo recuperi danni oltre incrementare la velocità potenza di lancio buono bello certo abbecca i nostri la mossa del sole top bellina come come tipologia d'attacco credevo fosse palla a volo invece è colpo di testa la trainer di fit in completa tranquillità vince il suo primo esercizio e adesso andremo subito tranquillamente al nostro secondo esercizio ispirare e ispirare ma è il coso di so... ah no niente a posto che devo fu... perché ho subito danno? recupero l'energia? beh? perché non recupero l'energia? di che cosa è fatto questo sortilegio? perché io non... salti giù kirby? o che cosa? no... perché contro kirby sono così pacioccosi e simpaticosi e pucciosi ah intanto vesh... pacco in due così faccio anche un colpo di testa alla Bobo Vieri mamma mia il colpo di... ma perché fa il colpo di testa? allora è il trainer di wifit maschio che fa... coso? il trainer di wif... certo che c'è una mira il trainer di wifit maschio che fa... perché io mi ricordavo facesse tipo il bugger o... o una roba del genere magari mi sbaglio eh però... ma... ah... ma è la lava che mi fa danno no! vacci via te kirby! stramega maledizione to! ma potevi saltare nel momento giusto che te compievo il volo! to! mamma mia le barriere che non mi fanno fare la victory vieni qua! signor kirby signor kirby giù! e t'ho preso pure! capsulina! no! tiè! mo vado a perdere guaguase mo! dai! to! dentro il buco nero e verso la sconfitta! ti becco il volo! va che non va via! porca miseria! e che che è? grande vittoria! no! quando sei a man di pochissimo 0,2 avrei tipo mi sarei aumentato di più se se perdevo una roba del genere tipo di colpi schifoso pacman di qua o pacman di là la vittoria sicurata! perfect match! pleno vifit questa volta avanza di bene 0,7 c'è un attacco scorpione il trainer di vifit sono ah! king k rule è contro di noi e io c'ho l'aiuto di mario dottor mario vadi dottor mario ci di una mano cioè si spera si spera tantissimo che si pokemon che figa lo tiro in ma mia ti prendo da sotto con la grande mossa della piramide la bomba la bombina no! la bombina no! certo che dottor mario che non fa niente ne dobbiamo parlare che non fa niente di niente super colpo del sole to! no vabbè guarda dottor mario che me butta giù vieni qua sopra ma se io punto a caso carico sto colpo no? e tipo lo lancio sbagliando no! come ha fatto grande dottor mario e vabbè caricalo poi vado qua sopra e poi sparo oh! il colpo del sole ha portato un razzo di sole in questa zungla è una vittoria per me e si avanza di 0,4 che comunque è un buone avanzare lo stesso king de 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 sempre no! non è in una zona nostra amica perché tipo qua ci stanno gli altri mamma mia che colpaccio di testo ho fatto no! voglio fare tre match perfetti porca loca vieni su pezzo di schifo ce lo prendevo così guarda i big money cos'è? ah no colpo del sole caricato ti è fine terzo match perfetto e si porta a casa un'altra grande vittoria ciao foglionina grande avanzamento totale incredibile jigglypuff pronti? via! vive! perché sono avanzato 0,8 mortacci loro fuga trainer defeat mamma mia quanto corre corre tipo tantissimo corre velocissimamente beh non ho mai fatto questo attacco cioè non avete sentito niente è perché mortacci dei rompicoglioni che poi io metto pausa con il cosino come si chiama col microfono e giustamente nell'incontro di jigglypuff io dico perché ho subito danno che volevo fare l'incontro perfetto e invece ce l'ho fatta lo stesso a fare roba maledizione vai porca miseria per un pelaccio per un pelaccio incredibile dai e salta e spacca no e allora fuga che con i tuoi colpi di testa non ce la facciamo ad andare avanti via verso lo scontro finale ben fatto round finale contro la master hand via con i miei incredibili mezzi aerodinamici tecnici di grande spirito e consecuzione la miseria vai questo è un colpo caricato che spero faccia il danno ammazza che botta che tiro ma parla pure parla pure in italiano non ho capito bene no dovevo colpire la testa con la palla dovevo capire la palla con la testa cioè tiè subito sconfitta in un man che non si dica distruttione grande vittoria trainer with it femmina grande vittoria ben fatto e si avanza di 1.1 6,7 credo che sia l'intensità maggiore che abbia guadagnato da una boss fight a Grazie a tutti. Qua ragazzi la trainer di WeFitFan sta facendo faville e qua ho il sentore che ci siamo davanti ad un nuovo primo posto e Cloud è stato scalzato. Ma il dipinto intanto per lei è... Aiuto! Ma che? Mi devi fare piare i golpi, trainer di WeFitFan, abbiamo sbloccato lei. E Catman, l'uomo che taglia. Se abbiamo bisogno di fare qualche inaugurazione, chiamiamo lui. E invece no, un milione e trentaquattromila, Cloud è ancora al primo posto. Lei se mi bada di essere al terzo e al quarto perché mi sa che è ancora King Dedede. No, sì, King Dedede che è davanti a lei. Sì, esattamente. E noi ci vediamo al penultimo video. Aspettate un attimo, fatemi controllare velocemente quale abbiamo prese tutte, quale abbiamo prese tutte, terza fila prese tutte, quarta fila prese tutte, l'ultima fila quella dei DLC e degli ultimi personaggi prese tutte. Ci mancano il Duodokant e Green Ninja per completare la battaglia, i percorsi di tutti i personaggi.